L'ospedale di Agnone è stanco di aspettare. Il primario facente funzioni dell'ospedale Caracciolo di Agnone, Franco Paoletti, in un duro post sulla sua pagina Facebook accusa platealmente chi, a fronte di innumerevoli promesse, continua a trascurare il nosocomio agnonese. È tornata a salire l'attività ospedaliera. Sono risaliti anche i ricoveri da fuori regione, solo grazie all'impegno del personale medico e paramedico. Questi sacrifici però non sono supportati dall'azienda sanitaria, che a fronte di annunci continui non mette nelle condizioni l'ospedale di offrire una adeguata assistenza all'utenza. Che fine ha fatto ad esempio la TAC di nuova generazione annunciata e mai entrata in funzione? E la cabina pletismografica per le prove respiratorie, che potrebbe rilanciare un settore carente nel resto degli ospedali della regione? Ed il mammografo per lo screening sulle pazienti? Ed ancora il laboratorio analisi autonomo ed in grado di funzionare H24. Solo promesse, afferma con amarezza il dottor Paoletti. Promesse che vanificano il lavoro fatto dal personale ospedaliero. Basterebbe poco per un ulteriore impulso di rilancio del centro ospedaliero alto molisano, che negli ultimi due anni sta dando ampi segni di vitalità. Quel poco è traducibile in una dotazione di apparecchiature e tecnologie diagnostiche, quelle stesse annunciate dalla ASREM e mai arrivate a destinazione al caracciolo, chiude il primario.